L'esistenza perfetta? Il mondo è perfetto al momento? Hai detto che è perfetto? È perfetto? Il mondo è perfetto al momento? Sembra che tu abbia fatto una buona colazione, poi sei arrivato. Chiedi a quel 50% della popolazione sul pianeta che non riesce a mangiare adeguatamente ogni giorno, chiedi loro se il mondo è perfetto. Quando lo stomaco è pieno, facciamo un tipo di filosofia. Quando lo stomaco è vuoto, facciamo un altro tipo di filosofia. Non è vero? Il mondo è perfetto al momento? Se trasformi te stesso, puoi fare molto con il mondo. Se sei incapace di trasformarti, puoi solo rovinare il mondo, non è vero? Guardi in te stesso e vedi quante assurdità ci sono. Ci sono o no? Non ci sono. Non ci sono? Trascorri i 24 ore in assoluta beatitudine? Non provo dolore. Non porto delle cose nella mia mente. Non rimango bloccato. La vita non ti ha ancora colpito a sufficienza. Davvero. La vita non ti ha colpito a sufficienza. Chiedi a molte persone qui. A coloro che sono stati colpiti duramente dalla vita, fanno esperienza della vita in un modo diverso. Aspetta un po' di tempo. Sei sposato? Questa è una benedizione o una maledizione, Giorgi? Quindi, l'esistenza è perfetta. Il mondo è perfetto. Va tutto bene per me e per il mondo. Perché qualunque cambiamento? Dobbiamo vivere in un sogno. Se solo apri gli occhi e ti guardi intorno, vedrai. Non importa quale sia la tua filosofia. Enorme sofferenza. Enorme sofferenza nel mondo. Non è vero? Troppa. Se tu... Se ti relazioni con le persone intorno a te, non sto parlando di quell'uomo nei bassi fondi. Anche i cosiddetti benestanti. Il livello di sofferenza che attraversano dentro di sé è indicibile. Troppa sofferenza sta accadendo nel mondo. Nessuno che abbia occhi può dire che sia perfetto. Se ti guardi intorno, vedrai molta sofferenza. Non è così? Non sto cercando di dipingere un quadro negativo. Ma c'è. Non è vero. Molte di queste persone lavorano negli ospedali. Ci sono dei medici qui. Chiedi a loro. La sofferenza dei loro pazienti e la loro sofferenza non è presente tutti i giorni. Vedi, accettare la sofferenza di qualcun altro è facile. Ma quando si tratta di te, è qui che c'è il problema, non è vero? Ora, quando vieni mangiato, allora non puoi parlare con la stessa nonchalance, non è vero? Non è così? Vedi, è come... Qualche tempo fa ero a una conferenza internazionale dove, sai, discussioni sulla riduzione della povertà e cose del genere sono in corso. Quindi, una persona dall'aspetto molto pio e religioso si alza e dice Tutto questo non è un piano divino. Perché discutiamo di tutti questi problemi e proviamo a cambiare tutte queste cose? Tutto questo non è un piano divino? Sì. Lo stomaco di qualcuno è vuoto, deve essere un piano divino. Se il tuo stomaco è vuoto, avrai il tuo piano, non ce l'avrai? Non ce l'avrai? Sì. Quindi, metà delle persone soffrono al momento. Ma va bene, l'esistenza è perfetta. Ma se la sofferenza arriva a te, allora non è perfetta. Vogliamo fare qualcosa al riguardo. Non è così? Quindi, tutte le cose che stanno accadendo nelle città di Madras non è perfetto. E se permetti che sia in quel modo, non ci vorrà molto prima che raggiunga anche te. Non è così? Sì o no? Se semplicemente permetti che sia così com'è, non ci vorrà molto prima che arrivi e ti raggiunga per davvero. Non è vero? Qualcuno sta morendo. Va bene, è naturale. Dopotutto la tigre mangia una capra. Ma domani, quando tuo figlio viene mangiato, allora delle cose accadranno. Non è vero? Quindi, non entrare in filosofie del genere. L'esistenza è un disastro in questo momento. Quando dico l'esistenza, non sto parlando dell'esistenza più ampia. Diciamo il mondo. Se l'uomo sparisce da questo pianeta, allora ogni cosa è perfetta. Su questo sono d'accordo. Allora è solo un processo naturale. Ma ora questo non è un ordine naturale della vita. È un ordine della vita molto innaturale che abbiamo creato. Se una tigre mangia una capra, mangia solo una capra ogni 15 giorni. Lo sai questo? Sai che una tigre mangia una volta ogni 12-15 giorni, non tutti i giorni? Se ne uccide una, per i successivi 12-15 giorni non mangia nulla. Ma la natura dell'uomo non è così. Vuole uccidere ogni minuto della sua vita. Non è così? Quindi, questo non è un ordine naturale della vita. Se seguissi l'ordine naturale, se lo stomaco è pieno, non dovresti toccare nulla al mondo. Non è così. Se il tuo stomaco è pieno, vuoi avere il mondo intero per te stesso. È così che sei fatto. Quindi, se non porti del buon senso in te stesso, allora, sai, un giorno un uomo diventerà così potente che non lascerà vivere nessuno. Cose del genere sono accadute in passato. Non sono accadute? Anche adesso ci sono molti, incluso te, che aspettano questo. Ma per fortuna non sei così capace. Se diventassero tutti industriosi, sei miliardi di persone, se diventassero industriose, questo per come andiamo avanti, per il tipo di attività che svolgiamo sul pianeta, probabilmente tra 25 anni il pianeta sarà esaurito se tutti i sei miliardi di persone diventano estremamente attive. Metà di loro sono pigri. I pigri stanno salvando il pianeta. Questo non va bene, sai. Gli intelligenti dovrebbero salvare il pianeta. Invece i pigri e gli inutili stanno salvando il pianeta. Questo non è un buon modo di sopravvivere, non è vero? Ma è così che sta accadendo in questo momento. Quindi la perfezione è che le cose saranno perfette solo se tu e io siamo morti. Siamo vivi. Non esiste la perfezione. Qualcosa può essere fatto al riguardo. Non è così? Sì. Quando andrai nella tua tomba, sarai perfetto. Ma finché stai qui, in piedi, vivo, c'è qualcosa che possiamo fare al riguardo. Quindi stiamo solo cercando di farlo. questo è un segno di vitalità, che crediamo ancora, che vediamo ancora, che c'è spazio per accrescere la possibilità della vita. Ora, questo non è abbastanza. In realtà, dentro di te, c'è qualcosa dentro di te che non si accontenterà di niente. Lo vedi questo? C'è o no? Potresti provare a ucciderlo in così tanti modi, con così tante filosofie, ma non puoi ucciderlo. C'è qualcosa in te che non si accontenterà, che vuole ogni cosa, niente di meno che ogni cosa, niente di meno dell'infinito, non si accontenterà. Allora dico, perché non gli diamo un'espressione consapevole? Comunque sta trovando un'espressione inconsapevole. Perché non gli diamo un'espressione consapevole? Lo yoga riguarda solo questo. Lo stai già cercando? Inconsapevolmente. Vogliamo impostare un processo affinché tu lo cerchi consapevolmente. Questo è tutto il cambiamento che cerchiamo di fare. Non è meglio cercare qualcosa consapevolmente che inconsapevolmente? Non è un modo migliore per affrontarlo?